Ciao, tornato il mio russito nero, non lo mettevo da diversi video, infatti mi hanno chiesto ma non te lo metti più il risetto nero? Sì, me lo metto, ma sono una pippa nel mettermelo e di solito mi macchio tutta la faccia, infatti ho tutte le mani già strecciate e io come una cretina ho fatto così e mi sono macchiata la faccia Allora, oggi facciamo un tag, un video tag in cui mi ha taggato il mio amico Mattias, trovate link tutto quanto nel box Un tag che si chiama The Italian Tag, tutte domande diciamo riguardo ovviamente alla nostra italianità e quindi andiamo Domanda numero 1, quanti caffè bevi al giorno e con quanto zucchero? Allora, al di là del fatto che il caffè non è italiano di origine, però vabbè c'è la storia, il caffè è solo in Italia, il caffè è ristritto, bla 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 In generale vabbè, io non bevo caffè in quanto la caffeina mi dà un po' fastidio, nel senso che mi fa venire la tachicardia, mi fa andare l'energia a mille e quindi non mi si... no Quindi di solito non bevo caffè, mi capita ogni tanto di bere il cappuccino, però di solito è decaffeinato o se proprio una volta, tipo forse una volta all'anno, il caffè è decaffeinato E di solito il cappuccino con una bustina di zucchero oppure un cucchiaino e mezzo, tipo una cosa così Domanda 2, pizza preferita? Sono un amante della pizza, però vado a periodi, diciamo mi piace allora tonno e cipolla con le verdure oppure funghi e mascarpone, però alcun è che io abbia proprio una pizza che voglio solo quella, no Domanda numero 3, pasta preferita? Io amo follemente la pasta in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, quindi non ne ho una preferita Se proprio vogliamo intendere il tipo di pasta, di sicuro vado matta per gli spaghetti e anche per i... non so come si chiamino onestamente Non sono i fusilli, sono tipo degli spaghetti bucati che però sono fatti tipo a molla, così, e sono lunghi così Non mi ricordo come si chiamano, però quelli mi piacciono da morire Ah, e le rotelle, le ruote, le ruote per me sono una cosa pazzesca Domanda numero 4, passatempo tipico italiano preferito? Oddio, non lo so, forse potrebbe essere giocare a carte Giocavo spessissimo a carte quando ero più piccola, con i nonni, con più che altro amici, tipo amici del mare, così così Mi ricorderò sempre che c'era un signore al mare Noi per tipo 20 anni siamo andati sempre nello stesso hotel a Milano Marittima Hotel che purtroppo adesso non c'è più, da diversi anni ormai Cosa che mi rende molto molto triste, anche se faccio la cretina, non sembra E io mi ricorderò sempre di questo signore che avevo conosciuto appunto al mare durante le estati, così E che mi è capitato di vedere, di rincontrare tipo 2-3 estati di seguito Un signore che mi aveva insegnato tantissimi giochi con le carte, tipo i giochini magici, chiamiamoli così Giochini di prestigio, oppure tipo dei solitari, eccetera Cose che non mi ricordo più, non mi ricordo più una mazza Però mi è rimasto il ricordo piacevolissimo di questo signore che si passava spesso le serate con me a giocare a carte E quindi forse appunto l'unico passatempo che possiamo dire tipico italiano che preferisco appunto è giocare a carte In realtà preferisco tipo le carte da scala 40, da poker, eccetera Però vabbè, cioè se si tratta anche di giocare con le carte Oddio non mi ricordo come si chiamano, quelle insomma con bastoni, denari, eccetera Anche con quelle mi piace giocare tipo rubamazzo, oppure assolitario Non mi piace onestamente la briscola, che non so se conoscete Non so onestamente se è un gioco che si fa in tutta Italia oppure no Perdonatemi, magari sto dicendo un'eresia abominevole Ma comunque insomma, in generale giocare a briscola non mi piace, non mi è mai piaciuto Però con le carte quelle lì, che ne so, tipo rubamazzo appunto, o ai solitari O a... anche a merda, mi piace giocare E vabbè, insomma, comunque giocare a carte, ecco Domanda numero 5 Frase in dialetto Oddio, non mi sono preparata niente Sto rispondendo alle domande così proprio di getto Frase in dialetto Allora, io sono ferrarese ovviamente Nata, cresciuta a Ferrara, vivo a Ferrara Sono a Ferrara da tutta la vita Quindi ovviamente il mio dialetto è il ferrarese Io non sono abituata a parlare in dialetto, anche se lo capisco benissimo Perché mia madre praticamente mi ha sempre parlato quasi solo in dialetto Però non mi viene spontaneo parlare in dialetto A parte forse qualche parola, qualche piccolo intercalare, qualche modo di dire, ma niente di che Comunque sono andata a cercare qualche frase perché onestamente non mi viene in mente una beata Quindi ve ne leggerò due Allora, una dice A Spolbrisa avere gallina ovo e culo caldo Che tradotto vuol dire Non si possono avere gallina, uovo e culo caldo Che letteralmente vorrebbe dire Diciamo Non si può avere tutto dalla vita E come è l'equivalente di dire Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca insomma E un altro è A pagare e morire se sempre in tempo Che vorrebbe dire Per pagare e morire se sempre in tempo Yeah Ma torniamo alle domande Domanda numero 6 Dolce tipico preferito Un dolce tipico, molto molto tipico ferrarese È il Pampato Che sarebbe sostanzialmente una specie Diciamo di torta ciambella Non so onestamente come definirla Tutto ricoperto di cioccolato Con dentro uvetta canditi E mandorle se non sbaglio Quello è un dolce proprio molto molto tipico Ma onestamente non mi piace Ma perché semplicemente non mi piacciono Non mi piace l'uvetta E non mi piacciono i canditi Un altro dolce tipico È il salame di cioccolato Che è letteralmente Un salame nel senso È come fosse un salame Ma è tutto di cioccolato Con dentro le mandorle, le nocciole Non mi ricordo È molto morbido E quello è molto molto buono Però onestamente non posso dire Di avere un dolce tipico nostro Che preferisco Forse, ecco, forse la tenerina Non sono certa, cerottissima Che sia un dolce proprio serarese Ma credo di sì E quindi posso dire la torta tenerina Domanda numero 7 Come chiameresti la tua pizzeria? Non ne ho idea Non aprirei mai una pizzeria Quindi non saprei proprio rispondere Domanda numero 8 Italiano O italiana numero 1 Morto o in vita Suppongo quindi personaggi Oddio Non lo so Dovrei pensarci probabilmente Un pomeriggio intero Non abbiamo un pomeriggio intero Quindi non ciò di rispondere Domanda numero 10 Quali canzoni italiane ti viene in mente Adesso? Che cosa triste mi è venuta in mente L'inno italiano Ma dai Ma no Ma perché? O se no mi viene in mente Italia Italia Poveretto Non ce n'è neanche più Vabbè Non mi viene in mente Niente a parte queste robe qua Domanda numero 11 Albero o presepe? Assolutamente albero Albero tutta la vita A casa mia si è sempre fatto l'albero Io non sono un amante del presepe Non mi è mai Non so perché Non mi è mai piaciuto Forse perché non l'abbiamo mai fatto in casa mia Quindi io sono abituata Con l'albero di Natale E quindi scelgo Scelgo l'albero di Natale E nulla Basta Le domande sono finite Vi invito a vedere Il video di Mattias Non taggo nessuno Non saprei chi taggare Però ovviamente Siamo tutti italiani Per la maggior parte Quindi siete tutti invitati A fare questo tag Così parliamo anche un po' Delle nostre radici Delle nostre origini Ci confrontiamo un po' Quindi se poi Vi fa piacere Linkatemi il vostro video Qua sotto Io vi mando come al solito Un bacione Vi invito a guardare Tutti i miei social Che trovate nel box Qua sotto Iscrivetevi anche Al mio canale Telegram Così sviamo Il fatto che Sia su Facebook Che su Youtube Non si viene quasi mai Notificati Di tutte le Novità Diciamo Degli utenti Quindi sul canale Telegram Potete rimanere in contatto con me In maniera molto molto più diretta E io vi mando un bacione Ci vediamo come al solito Al prossimo video E ciao Non mi posso baciare Perché se no Mi lascia lo stampo Nero sulla mano Ciao 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 Ciao